Noi abbiamo chiesto nel passaggio che è già stato definito dalla precedente amministrazione di predisesto e che è in attesa anche dal Corte dei Conti di un suggerimento a proposito, abbiamo chiesto quali siano gli indirizzi che ci vengono consigliati per poter assolvere ai nostri doveri istituzionali. Cioè principalmente strade e scuole, indirizia scolastica, ma anche interventi di assetto idrogeologico. Ci sono poche risorse in cassa, si rischia addirittura di non pagare gli stipendi ai dipendenti? Tutto dipende da come potremo affrontare la situazione, ovviamente situazione in cui non l'abbiamo creata, nel senso che ce la troviamo alle spalle, noi abbiamo subito capito che forse non era stata evidenziata la situazione dal punto di vista finanziario per la sua preoccupante realtà e quindi abbiamo provveduto appena insidiati appunto a far attuare una diligence che ci ha specificato appunto quali sono le reali situazioni finanziarie dell'ente. Quindi ci siamo immediatamente immobilitati e il nostro percorso è certamente quello di cercare in ogni sede quelle che possono essere le risorse necessarie per poter garantire appunto la rispondenza dell'ente ai doveri istituzionali. Chiaramente noi ci rivolgiamo da un lato all'aspetto governativo e dall'altro anche alla regione per quanto riguarda il grandissimo problema dei canoni idrici. Le conseguenze sull'edilizia scolastica? Sull'edilizia scolastica non essendoci disponibilità a fronte di grandissime esigenze a partire dalla sicurezza. Noi non siamo in grado di garantire, arriviamo ad avere difficoltà a sostenere le spese di riscaldamento. Questo non è accettabile. Così come la materia sicurezza, l'acquisizione dei certificati di prevenzione incendi, gli interventi solo minimali per mettere in sicurezza le scuole ammontano a circa 2 milioni di euro. Dalla provincia anche una proposta di legge? Sì, crediamo sia doveroso riprendere in mano la situazione dei canoni idrici e del verbano così ossola. Quindi partirà proprio dai banchi della maggioranza una proposta di legge perché il verbano così ossola possa riavere i canoni idrici, proposta di legge regionale evidentemente, e possa avere tutta quella serie di competenze e di funzioni che sono proprie di una provincia a specificità montana. Grazie.